Soddisfazione delle associazioni ricorrenti e anche delle opposizioni in regione. Nel gennaio del 2016 ci fu un lungo dibattito nell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, ricorda Giulia Gibertoni del Movimento 5 Stelle. Quel progetto andava rivisto e andava rivisto proprio dopo il no del Ministero dei Beni Culturali, con l'apertura alle opinioni dei cittadini. Questo non è stato fatto, ora invece il TAR ci dà ragione, di questo siamo particolarmente soddisfatti e speriamo che una giunta che ha sempre detto a parole che le discariche le vuole chiudere, oggi chissà festeggi come noi sicuramente festeggiamo questa notizia.